Le reliquie del magistrato Beato Rosario Livatino sono da oggi e fino a domenica a Monteroni, in provincia di Lecce. Un segnale importante che viene da una comunità segnata negli anni passati dalla guerra di Mala del Salento per avere dato i Natali a boss storico della Sacra Corona Unita, Mario Tornese. La reliquia rappresentata dalla camicia che il Beato indossava il 21 settembre del 1990, quando venne assassinato dalla stida grigentina, intrisa del suo sangue con ancora visibili i fori dei proiettili che uccisero il giudice ragazzino, varca per la prima volta ai confini della Sicilia per approdare nel Salento. La reliquia arriva a Palazzo Baronale alla presenza della sindaca e dell'arcivescovo di Lecce. Sosterà fino a domenica. Numerosi gli eventi all'atere dalle celebrazioni eucaristiche agli incontri di approfondimento. Stasera alle 20 nell'oratorio San Giovanni Bosco c'è stato il previsto dibattito alla presenza dei giudici Roberto Tanisi, Giuseppe Capoccia, Vincenzo Scardia e dell'avvocato Antonio De Mauro.